Sindaco Maurizio Brucchi, continuano le polemiche sulla Ruzzoreti, cosa si sente di dire oggi anche in riferimento a quello che è stato riportato ieri? Io direi che quello che mi sento di dire è che basta con le polemiche, in questo momento la Ruzzoreti non ha bisogno di polemiche, ha bisogno soltanto che ci si occupi delle problematiche che mi sembra essere abbastanza importanti. Quindi quello che stiamo assistendo in questi giorni sui giornali non è una cosa che mi piace, lo dico come socio di maggioranza del Ruzzo. Ritengo che ci siano situazioni importanti da affrontare, la prima è quella dei 70 passi milioni di euro di debiti che la Ruzzoreti ha, capire qual è la situazione, capire qual è il piano che il CdA vuole mettere in atto per cercare di rientrare da questa situazione molto grave e molto preoccupante per quanto mi riguarda perché ritengo che non possano essere poi i cittadini a pagare eventuali situazioni così pesanti. Sulle altre problematiche, tipo quella dei 60-70 dipendenti, io non ne sono al corrente, è giusto che voglio approfondire un attimino questa situazione e capire bene qual è il problema e poi vedere quali sono le soluzioni. La cosa che non riesco ad accettare è le polemiche, gli amministratori sono stati eletti dall'assemblea dei sindaci per amministrare bene questa società ed è il mio invito agli amministratori che lo rinnovo oggi da queste emittenti per invitarli a lavorare e a cercare di affrontare le problematiche che sono tante del nostro territorio, si avvicina l'estate, c'è il problema delle emergenze, le problematiche sono tante quindi l'invito a pensare alle problematiche più che a fare polemiche.